Il sogno proibito, anzi l'obiettivo reale, anche se non sempre dichiarato, sono le privatizzazioni, anche per la giunta Perri. Cimitero, Cremona Solidale, attività dei servizi sociali, casi popolari, scuole sono nel mirino. Da un lato le strategie dello Stato puniscono in modo assai criticato gli enti locali, costretti ormai a diminuire il personale da 15 anni e ad accontentarsi di finanziamenti ministeriali risicati. Dall'altro l'appetito dei privati aumenta e si rivolge anche a servizi comunali che non sono nemmeno in perdita. Nel mandato che si sta concludendo, l'assessore Di Micheli ha parlato della possibilità di vendere il cimitero, che pure, considerato da un punto di vista economico, è inattivo grazie alla vendita di tumuli e cappelle gentilizie. In passato i lavori presso il Camposanto erano differenziati fra diverse cooperative. Oggi si concentrano sulla COP Sociale e del Lavoro, che secondo i bilanci dal 2010 al 2012 ha aumentato il valore della produzione da 191.000 a 392.000 euro. 12 dipendenti rilevati per la società di Via Malombra 11, che ha come presidente Gian Pietro Parmigiani. L'ultima interrogazione dell'opposizione del PD, firmata dalla capogruppo Maura Ruggeri, che critica l'inopportunità della privatizzazione. Cremona Solidale, ancora azienda pubblica per la gestione delle case di riposo che compongono l'ex ospizio soldi, è sottotiro da tempo. I sindacati si sono battuti con energia contro il ritiro del comune, che con l'assessore Luigi Amore ha tratteggiato più volte il passaggio alla gestione privata come un'occasione di maggiore efficienza, mentre l'intensificazione dei rapporti fra Cremona Solidale e Fondazione Privata Casa di Dio, il cui presidente e lo stesso direttore dell'ex soldi, Angelo Gipponi, ha suscitato nuove proteste. La proprietà è della Fondazione Città di Cremona. La gestione è pubblica e i rappresentanti dei lavoratori temono che decada la qualità del servizio in nome del pareggio di bilancio, visto che le rette difficilmente potranno essere aumentate in tempi di disoccupazione. Cooperative accreditate dalla regione sono molto attive anche nel settore politica ed educativa e nelle scuole, suscitando le contestazioni del sindacalista Carmelo Murabito della CISL. Il comune paga gli stipendi dei propri dipendenti, ma anche quelli delle cooperative e le famiglie sono chiamate a partecipare alla spesa. L'idea che il privato garantisca efficienza e il comune no ha trovato ostacoli vivacissimi. Così l'idea di un comune leggero, molto meno proprietario che in passato, è stata fermata. Il settore culturale è un esempio di prevalenza del privato. I prossimi anni rivedranno, lo si può credere, alcune proposte del recente passato a ripresentarsi.